Dammi l'altro. Dammi l'altro. Non siete stanco? Sì, sono stanco. Lavoro per ristorarmi un po'. Voi dovete smettere di fare imprudenza, come nei giorni passati. Tommaso, io sono malato e non posso trovare posa. Non siete stanco. 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 Vedete un poco sul letto. Riposerete meglio. Daniele da Volterra, il suo amato discepolo, che poi avrà l'incarico di ricoprire i nudi del giudizio, corse a chiamare il medico Federico Donati. Posso salutarvi, Messer Bonarotti? Voi potete salutarmi, Messer Federico, che io sto per compiere un viaggio in cui si passa dall'orribile Procella in dolce calma. Lascio l'anima mia nelle mani di Dio, il mio corpo alla terra. Chiedo di tornare, almeno morto, alla mia diretta Firenze. L'anima mia madre è un problema che queste intuare cioè a chiamare i nostri amici. Allora, poi vass Cerro Atmosale i nostri amici. Non siete stanco. e noi ci sono stati ai nostri amici, abbia una degenerazione di radello, Allora, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.